presentato nel fine settimana nella sala della fondazione sant'anna il progetto benvenuti genitori promosso dal comune di perugia con la collaborazione dell'usl umbria 1 e il dipartimento di filosofia scienze sociali umane e della formazione dell'università degli studi di perugia con lo scopo di offrire ai genitori l'opportunità di ricevere informazioni puntuali valide dal punto di vista scientifico su tutto quello che è bene sapere per lo sviluppo del bambino nei primi mille giorni di vita quindi buone pratiche che possono favorirlo e soprattutto conoscere quanto i servizi territoriali e quindi azienda sanitaria punti in assita e consultori familiari già mettono a disposizione il progetto è affidato al centro per la salute del bambino si tratta di un'organizzazione senza fini di lucro nata nel 1999 che opera in italia e a livello internazionale per sviluppare valutare e diffondere programmi di supporto alla salute e lo sviluppo cognitivo e socio relazionale del bambino e alle competenze genitoriali quali nati per leggere nati per la musica e un villaggio per crescere che pongono attenzione soprattutto al lavoro coordinato e integrato tra operatori di diversi servizi si tratta di un ulteriore passo in avanti delle attività che il comune di perugia mette a disposizione dei bambini e delle loro famiglie sono tornato questa notte da palmanova del frioli dove ad un evento anci abbiamo presentato a tutti gli amministratori della regione frioli ma anche della regione piemonte puglia i nostri progetti e devo dire che abbiamo ricevuto veramente importanti riconoscimenti un applauso quasi in a standing ovation della platea quando abbiamo presentato i nostri dati i progetti prodotti in questo periodo benvenuti genitori parte praticamente da quello che la scienza ci dice che le migliori performance che i bambini possono avere nella loro vita dipendono da due elementi la scolarizzazione precoce per e per questo intendo una scolarizzazione di qualità e quindi ecco che il plauso che abbiamo ricevuto è per i numeri che abbiamo come asili nido e la qualità dei nostri asili nido e però c'è la seconda gamba che quindi fa andare avanti le appunto le migliori capacità emotive cognitive dei bambini che è la educazione familiare quindi per far questo si è visto che serve portare educazione una istruzione specifica ai genitori e quello che la letteratura ci ha detto è che questo genere di interventi vanno anche a contrastare la denatalità della quale tanto si parla giustamente perché è un grosso problema per la nostra società e servono più i servizi come questi che stiamo mettendo a disposizione e che sono permanenti duraturi nel tempo non spot piuttosto che appunto quelle piccole prestazioni occasionali di erogazione di bonus che però non da non hanno continuità e che non rassicurano assolutamente i genitori che sono in procinto di realizzare una famiglia ecco il progetto prevede praticamente per questo primo anno un percorso che riguarderà perché questo è un altro tema importante non è un servizio dedicato ai fragili alle famiglie fragili ma assolutamente il bisogno di questo servizio è trasversale il nostro servizio sarà infatti universale per tutte le famiglie perché non sono le condizioni socio economiche che magari possono realizzare delle difficoltà maggiori ma è la condizione sociale e il sistema diciamo educativo di oggi che riguarda che crea problemi anche nelle famiglie che economicamente socialmente sono più agevati quindi interverremo con attività che saranno svolte all'interno del di un consultorio cittadino ma anche all'interno dei punti nascita della città e così pure come all'interno del reparto di neonatologia della città lo faremo anche all'interno degli asili nido ma non privilegiando solo coloro che hanno la possibilità di portare anche se molto alta nel nostro territorio la possibilità di portare i figli ma anche per quei genitori che non hanno potuto iscrivere o voluto iscrivere i loro figli al nido anzi siamo in procinto e probabilmente per il prossimo anno scolastico lo realizzeremo di incentivare questa frequenza alla scuola tra virgolette per i genitori perché partirà proprio un anno accademico uguale a quello dei loro figli da settembre e un percorso che incentiveremo dicevo appunto dando a coloro che avranno frequentato questa fase di preparazione una riduzione della retta di iscrizione all'asilo per il proprio bambino quindi noi puntiamo molto su questo e puntiamo e grazie a questi progetti innovativi che abbiamo già realizzato abbiamo avuto riconoscimenti io sono tornato la settimana scorsa dalla Liguria dove abbiamo presentato così come la prossima settimana sarò nella riunione plenaria di ANCI nazionale a Roma a presentare la nostra visione del PNRR per la scuola, il PNRR delle cose con gli edifici che abbiamo ristrutturato ma anche il PNRR delle persone con tutte le innovazioni che abbiamo portato a favore dei nostri cittadini